Se hai una partita IVA a regime forfettario, sai che dal 1 luglio la fatturazione elettronica è obbligatoria. Ma non preoccuparti! Con la fatturazione elettronica di Aruba, la gestione delle fatture è incredibilmente facile, perché crei velocemente le fatture. Riduci i margini di errore durante la compilazione, visioni report e grafici, e collabori con il tuo commercialista. Tutto in una sola e semplice interfaccia, utilizzabile su qualsiasi dispositivo, anche dall'app. Provala ad un euro per tre mesi e poi a soli 25 euro l'anno. Chi l'ha scelta, non la lascia più.